Musica Buona domenica e benvenuti al Consolatore Epilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 6 dicembre. Blizz antidroga dei carabinieri a Palermo, 31 i provvedimenti cautelari, 8 in carcere e 23 agli arresti domiciliari. Il rifornimento della sostanza stupefacente a Ballarò e lo smercio a Portanna Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo. Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione a 31 provvedimenti cautelari, 8 in carcere e 23 agli arresti domiciliari emessi all'ufficio del GIP al Tribunale. L'indagine condotta dai militari della Compagnia di San Lorenzo tra il 2019 e il 2020 ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario che è stato sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare in cui si contesta l'esistenza di tre associazioni criminali strettamente interconnesse dedite al traffico di sostanze stupefacenti che si sarebbero rifornite nel quartiere Ballarò per poi smerciarle principalmente nelle zone di Portanna Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo, ex CEP, con ramificazioni anche nei quartieri più centrali della città. I tre sudalizi sarebbero strettamente legati tra di loro da reciproci rapporti di fornitura e collaborazione, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà nell'approvvigionamento della sostanza stupefacente, così da assicurare sempre l'operatività delle compagini. Sempre secondo le contestazioni mosse nell'ordinanza cautelare, gli indagati avrebbero avuto a disposizione magazzini, appartamenti ed esercizi commerciali per riunioni nel corso delle quali decidere le strategie dell'organizzazione, nonché per lo stoccaggio e lavorazione dello stupefacente, in particolare in una macelleria riconducibile ad uno degli arrestati. Anche tramite i macchinari utilizzati nella quotidianità per la lavorazione e il commercio dei prodotti di origine animale sarebbero state smistate grosse quantità di droga. Il giro di affari è presuntivamente stimabile in circa 500.000 euro su base anno. Nel corso dell'attività sono state arrestate in flagranza di reato 13 persone segnalate alla locale prefettura quali acquirenti 6 soggetti, nonché sequestrati circa 12 chili di stupefacente e circa 2.000 euro in contanti. L'operazione di questa notte con cui sono stati eseguiti 31 provvedimenti cautelari da parte della compagnia Palermo San Lorenzo all'esito di un'indagine coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia è solo l'ultima delle attività investigative che testimoniano un'incessante azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti portato avanti dai carabinieri di Palermo e frutto della sinergia dell'apporto informativo delle stazioni e gli approfondimenti investigativi dei reparti del provinciale che hanno consentito solo negli ultimi 35 giorni di eseguire 112 provvedimenti cautelari, arrestare in flagranza di reato 62 persone nei precedenti mesi, sequestrare oltre 15 chili di sostanze stupefacenti e fermare un giro d'affari di 3 milioni di euro su base anno. Antonio Cascio, infettivologo e ordinario alla Facoltà di Medicina del Policlinico di Palermo è certo della necessità di vaccinare anche i bambini fra i 5 e gli 11 anni. La possibilità di ricovero per i più piccoli è rara ma possono essere strumento di trasmissione nei confronti di genitori, nonni e soggetti più fragili. Io consiglio il vaccino anche per i bambini più piccoli. Sappiamo bene come i bambini difficilmente finiscono in ospedale a causa di un'infezione da SARS-CoV-2. Però i bambini possono essere e di fatto rappresentano una causa importantissima di contagio per i loro genitori e per i loro nonni. Sappiamo bene come le persone anziane talvolta rispondono male alla vaccinazione. Quindi ci sono persone anziane o fragili che non sanno di non essere protette contro il coronavirus e quindi quando vengono in contatto con i loro nipotini, con i loro figli, con i loro nipoti, insomma possono contagiarsi. E quindi questo è già un motivo importante per vaccinare i bambini. Altro motivo importante, è vero, i bambini difficilmente finiscono in ospedale a causa del Covid. Però un bambino che contrae l'infezione da SARS-CoV-2 potrà manifestare a distanza di tempo, anche se l'infezione è stata asintomatica, una sindrome che si chiama MIS-C, una sindrome infiammatoria multisistemica che può comportare disturbi a livello gastrointestinale, neurologico, soprattutto cardiaco, può portare a shock, insufficienza cardiaca. E i bambini purtroppo possono anche finire in terapia intensiva e anche morire di questa sindrome. È vero, è rara, però nei grandi numeri, anche piccole percentuali possono portare a numeri assoluti e rilevanti. Poi, ancora, tanti colleghi, anche i miei, magari non vogliono prendere delle posizioni. Io sono, insomma, per prendere una posizione darei un consiglio chiaro. Quindi, ripeto, io preferisco vaccinare i miei figli più grandi, appena possibile vaccinerò il mio figlio più piccolino. La paura qual è? Quella della miocardite, di cui tanto si parla come complicanza, come evento avverso a seguito del vaccino fatto nei ragazzini. In realtà, la miocardite è vero, è un evento avverso possibile di questo vaccino, però è raro e soprattutto è un evento benigno e transitorio che si cura poi i farmacenti infiammatori. Al contrario, la miocardite provocata dal virus, anche se rara, può essere molto grave e portare il bambino in terapia intensiva. E in considerazione del fatto che il virus sta circolando tanto fra i bambini, ripeto, anche numeri bassissimi, di percentuali bassissimi, potranno essere numeri assoluti di una certa rilevanza. Quindi, assolutamente sì, vacciniamo i bambini. Martedì 7 dicembre, operazione antidroga a Bagheria, 4 arresti e 25 indagati. Polizie e carabinieri hanno smantellato un'articolata rete di spaccio che avrebbe avuto la base operativa nella cittadina alle porte di Palermo. Polizie e carabinieri sono stati impegnati in un'operazione antidroga congiunta a Bagheria, nel corso della quale, nei confronti di 4 persone, è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Altre 25 risultano indagate e, nei confronti di tutti, sono stati eseguiti decreti di perquisizione. Gli indagati orbitanti nella zona del Bagherese dovranno rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, trasporto, cessione, commercio e vendita di stupefacenti. Il provvedimento è messo dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari e il Tribunale di Palermo nel corso dell'indagine preliminare diretta dalla sezione Palermo, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, dalla direzione distrettuale antimafia, dalla locale procura e frutto di un'articolata attività investigativa condotta congiuntamente da dicembre 2016 a novembre 2018, che ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario che è stato sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare in cui si contestano agli indagati le presunte condotte di traffico e vendita di sostanze stupefacenti di cocaina, eroina e hashish nelle province di Palermo e Trapani. Con l'odierna operazione, le forze dell'ordine hanno smantellato una delle principali presunte piazze di spaccio del grosso centro alle porte di Palermo, i cui traffici sarebbero stati egemonizzati, secondo i gravi indizi ritenuti dal GIP da due diverse associazioni a delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti. Gli odierni arrestati nel settembre 2021 erano già stati fatti destinatari di altra misura cautelare, emersa nell'ambito di un'attività d'indagine sempre coordinata dalla predetta direzione distrettuale antimafia. I gravi indizi scaturiti dall'odierna attività investigativa, partiti dalla sviluppo di un filone a sé stante riguardante una violenta rapina a un anziano compiuto a bagheria, chiederebbero la rilevante portata dell'attività di spaccio e confermerebbero che l'antica rotta della droga tra le province palermitane e trapanesi sarebbe sempre particolarmente attiva attraverso costanti approvvigionamenti della vicina piazza palermitana. Il sodalizio bagherese riuscirebbe non soltanto a rifornire al dettaglio pusher locali, ma anche marsalesi e quindi a far giungere lo stupefacente anche in quella provincia, con consegne anche a domicilio. Contrasto a caporalato e distorsione, se in pappagheria la Guardia di Finanza ha segnalato tre persone all'autorità giudiziaria e ha sequestrato beni per quasi 700 mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a due distinti decreti di sequestro per un valore complessivo pari a circa 700 mila euro emessi dal GIP del Tribunale di Termini Merese su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di tre soggetti responsabili dei reati di caporalato ed estorsione. In particolare l'attività di servizio svolta dai militari della compagnia di bagheria scaturisce da una indagine di polizia giudiziaria svolta nei confronti di una onlus con sede a bagheria operante nel settore dei servizi socioassistenziali e di trasporto di persone con disabilità e dializzati. Dalle investigazioni è emerso che tre soggetti, seppure inquadrati come soci lavoratori, svolgevano di fatto le attività tipiche di un datore di lavoro imponendo le loro decisioni agli altri volontari ai quali non garantivano il pagamento delle ferie, della tredicesima, delle indennità per malattia e costringendo, sempre gli stessi, dietro continue minacce, a restituire parte dello stipendio versato, obbligandoli a prelevare il giorno stesso in cui veniva effettuato l'accredito. I tre sono stati deferiti quindi alla Procura della Repubblica di Termini Merese per i reati di estorsione e sfruttamento del lavoro nei confronti dei volontari della onlus. Inoltre i finanzieri hanno sviluppato complessi accertamenti economico-patrimoniali in esito ai quali il GIP ha disposto il sequestro per equivalente, finalizzato alla confisca, dei beni e delle disponibilità finanziarie del valore del profitto illecito dei reati contestati. Il sequestro delle disponibilità economiche possedute in valore sproporzionato rispetto al reddito per un valore complessivo di quasi 700.000 euro in considerazione della disponibilità in particolare in capo a due di essi, tra di loro cugini ed imparentati con un elemento di spicco della famiglia mafiosa di Bagheria di un rilevante patrimonio intestato a prestanome, ovvero a familiari, al fine di schermare la reale titolarità dei beni, nonché la conduzione di un tenore di vita del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Mercoledì 8 dicembre in arrivo il bonus natale, boni spesa fino a 1.400 euro per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. Ai comuni i fondi previsti al decreto sostegno per dare il contributo entro fine anno ai cittadini più colpiti dalla crisi. Nuovi aiuti alle famiglie previsti dal decreto ristori. In arrivo entro fine anno il bonus natale, un contributo che può arrivare fino a 1.400 euro a famiglia. Il sostegno economico che il Governo ha previsto per le famiglie a basso reddito è destinato all'acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari. Nonostante il nome, infatti, non si tratta di un vero e proprio bonus, ma dell'erogazione di boni spesa per aiutare le famiglie durante il periodo della pandemia di Covid-19. Il contributo finanziato dallo Stato sarà erogato dai comuni, come già previsto dal decreto ristori e rifinanziato dal Governo tramite il decreto sostegni bis. Si tratta di boni spendibili nei negozi che aderiscono all'iniziativa e solo per l'acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità, come prodotti per l'igiene personale o per la casa. I beneficiari devono risiedere nel comune e non devono essere percettori di altre forme di sostegno pubblico, come il reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione e guadagni. Per sapere esattamente quali sono i requisiti e come fare la domanda, bisognerà andare sul sito del proprio comune di residenza. Nella maggior parte dei casi la domanda va compilata online. I comuni stessi stabiliranno i criteri che ritengono più idonei per la distribuzione del bonus, ma ci sono dei documenti che sono indispensabili al momento della domanda, come la certificazione del valore ISEE del dunglio familiare e il numero dei componenti di minorità con disabilità o anziani. In aumento le sezioni primavera in Sicilia per i bambini dai 24 ai 36 mesi si passerà da 224 a 308 sezioni disponibili, ad annunciarlo l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla. L'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale promuove ulteriori 84 nuove sezioni primavera, che si aggiungono alle 224 ad oggi attive sul territorio siciliano per l'anno scolastico in corso e che ogni giorno accolgono i bambini da 24 ai 36 mesi. L'intervento rientra nell'ambito del piano di finanziamento per il sistema integrato di educazione ed istruzione 3-6 anni, la graduatoria provvisoria è in corso di pubblicazione. Le sezioni primavera offrono ai bambini a di sotto dei 3 anni di età un qualificato momento di preparazione e introduzione al processo di scolarizzazione, favorendo un'effettiva continuità del percorso formativo e fornendo una concreta risposta alla crescente domanda di servizi educativi soprattutto per i bambini tra 24 e 36 mesi. Per il sistema integrato dell'infanzia l'assessorato ha stanziato 12 milioni di euro, spiega l'assessore all'istruzione Roberto Lagalla, da destinare alle sezioni primavera e alle scuole 3-6 anni. Grazie a questi interventi siamo oggi in grado di soddisfare l'accresciuto fabbisogno regionale rispondendo positivamente alla richiesta di tante famiglie siciliane. Tengo a sottolineare, ha concluso Lagalla, che secondo l'ultimo monitoraggio ministeriale, la Sicilia rispetto al numero di sezioni attivate è seconda solo alla Lombardia, che supera le 400. Per la Sicilia, nella provincia di Egrigento, vengono introdotte ulteriori 5 sezioni primavera, che si aggiungono alle 29 già attive sul territorio, per un totale di 34. Nel Nisseno, oltre alle 10 ad oggi in funzione, se ne aggiungono 8, con un'offerta complessiva di 18 sezioni primavera. A Catania diventano 46, perché alle 35 sezioni già esistenti se ne aggiungono 11. 9 sezioni primavera saranno attivate anche nella provincia di Messina, per un totale di 30 sul territorio, delle quali 8 di prossima apertura. A Palermo, dove il numero di sezioni esistenti è pari a 94, essendo il fabbisogno particolarmente elevato, ne saranno aperte altre 35, per un totale di 129. Nel Ragusano se ne aggiungono 6, per un totale di 11, mentre nel Siracusano diventano 18, grazie alle 5 sezioni di prossima introduzione. Ulteriori 6 nuove sezioni saranno aperte invece nel Trapanese, che si aggiungono alle 13 già avviate. E infine, nella provincia di Enna, apriranno 3 nuove sezioni. Giovedì 9 dicembre, corruzione, 7 arresti nel Messinese, nella rete vigile di imprenditori. Sono in tutto 11, le persone finite sotto inchiesta devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di Reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio. I carabinieri hanno smantellato un'associazione a delinquere operante nella fascia ionica della provincia di Messina, che attraverso un collaudato sistema di corruttela tra pubblici ufficiali, personale in forza alla Polizia Municipale del Comune di Letoianni e della Polizia Metropolitana di Messina, e imprenditori, avrebbero gestito in modo illecito il servizio alla messa in sicurezza della viabilità a seguito di incidenti, consentendo un indebito arricchimento non solo del titolare di una società posta sotto sequestro che aveva acquisito il monopolio nel settore, ma anche di due dei pubblici ufficiali indagati. Questi ultimi, infatti, attraverso un meccanismo che vedevano il coinvolgimento di una società creata ad hoc e a loro riconducibile, avrebbero ottenuto lauti guadagni come corrispettivo per l'asservimento della loro funzione pubblica e gli interessi privati, come sottolineano gli inquirenti. Sono in tutto 11 le persone finite sotto inchiesta, 7 delle quali agli arresti domiciliari. Tutti devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di Reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio. L'ordinanza è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura, disposto anche il sequestro di una società a responsabilità limitata dedicata al ripristino delle strade a seguito di incidenti, con danni alla carreggiata, sversamenti di liquidi o altri detriti. L'attività investigativa è stata avviata a seguito delle anomalie riscontrate dai carabinieri nelle procedure di ripristino delle condizioni della sede stradale in occasione di un incidente stradale autonomo con conseguente perdita di gasolio dal veicolo coinvolto verificatosi nel centro abitato del comune di Mongiuffi, Melia, nel gennaio del 2019. A destare il sospetto dei militari dell'Arma è stato l'intervento irrituale in quella circostanza di una pattuglia della Polizia Municipale dell'Imitrofo Comune di Letoianni non competente per territorio. Partendo da questa anomalia attraverso acquisizioni documentali e grazie ad un'importante azione di coordinamento delle stazioni carabinieri presenti sul territorio, gli investigatori si sono resi conto che nella maggior parte ai sinistri con sversamento di liquidi o detriti sul manto stradale che si verificavano sulle strade del comune di Letoianni o di alcuni comuni limitrofi, nonché sulle arterie provinciali, la ditta individuata per la rimessa in efficienza alla carreggiata era nella maggior parte dei casi la SOS strade. Aperto al pubblico il quarto pronto soccorso di Catania all'ospedale San Marco realizzate sei macro aree triage oltre che le aree verde, gialle e rosse in cui possono essere accolte circa 40 pazienti a seconda del livello di assistenza richiesto. A queste si aggiungono un reparto di osservazione breve e intensiva e un reparto di terapia subintensiva. Completa un percorso iniziato alcuni anni fa. molti cittadini di Catania pensavano che questa struttura alle mie spalle fosse destinata alla demolizione. Non è stato così. Oggi c'è una moderna struttura ospedaliera anche un dipartimento di emergenza con un pronto soccorso che risponderà alle esigenze di questo territorio e di un ampio bacino nella Sicilia orientale. Si è completato un percorso che era iniziato più di 15 anni fa con l'apertura del pronto soccorso del presidio ospedaliero del San Marco. Questo processo è durato a lungo ed è stato abbastanza complicato perché ci sono stati dei problemi finanziari della ditta che aveva in appalto la costruzione dell'ospedale. Finalmente nel 2019 grazie alla perseveranza del Presidente della Regione Musumece dell'Assessore alla Salute Razza si è aperto l'ospedale San Marco che è stato in prima linea nella battaglia contro il Covid. Ora che grazie alla vaccinazione la pressione sull'ospedale è diminuita abbiamo potuto completare il percorso con l'apertura degli ultimi reparti che rimanevano da aprire e oggi con l'inaugurazione del pronto soccorso che è il quarto della città di Catania e il secondo dell'azienda policlinico Rodolico San Marco che completa l'offerta sanitaria nei confronti della provincia di Catania. Il Policlinico di fatto con quello di via Santa Sofia da oggi ha due pronto soccorso attrezzati, efficienti, modernissimi capaci di poter far fronte alle esigenze del territorio e il risultato di un impegno profuso dall'Assessore Razza e da tutta la struttura del Dipartimento. Stiamo lavorando per dotare Palermo come sapete della seconda struttura specialistica quella dell'ISMET 2 e guardiamo con grande interesse a tutti i pronto soccorso delle città capoluogo alcune dei quali peraltro sono già con cantieri attivi in corso per la riqualificazione. Abbiamo chiesto e ottenuto oltre 130 milioni da Roma per poter procedere alla riqualificazione dell'esistente a parte i nuovi posti di terapia intensiva che ogni settimana andiamo inaugurando. Venerdì 10 dicembre violenza sessuale di gruppo ventenne ricattata per un video quattro arresti a gravina di Catania indagato anche un minore di 16 anni. Violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicite e distorsione sono queste le accuse formulate dalla procura distrattuale di Catania nei confronti di quattro giovani rispettivamente due di 20 e due di 21 anni che sono stati arrestati dai carabinieri di gravina di Catania. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte dei quattro e danni di una ragazza ventenne con loro anche un minore sedicenne per il quale sta procedendo la competente procura della Repubblica. I fatti si sarebbero verificati tra il mese di novembre 2019 e il mese di maggio 2021. L'attività investigativa è partita dalla denuncia della vittima che ha dichiarato che in più occasioni sarebbe stata obbligata ad un atto sessuale all'interno di un garage nella disponibilità di uno degli indagati mentre veniva a suo malgrado ripresa in un video sul suo stesso cellulare da uno dei partecipanti che successivamente lo avrebbe cancellato ma non prima di averlo trasferito su quello di un altro. Tutta questa squali da vicenda sarebbe partita dal fidanzato della stessa ragazza. Il loro rapporto viene considerato dalla procura malato ed è stato accertato che lo stesso giovane nello stesso periodo intratteneva una relazione con un'altra coetanea che però non sapeva nulla di questa vicenda e proprio per la decisione della vittima che gli avrebbe manifestato l'intenzione di rivelare questo strano triangolo danneggiandogli anche il fanale posteriore dell'autovettura l'ex fidanzato avrebbe utilizzato il video della violenza sessuale come strumento di rivalza. L'attività di riscontro alle dichiarazioni della vittima insieme alle indagini tecniche effettuato sul suo cellulare ha consentito ai militari di recuperare il video in questione fornendo concretezza alle poste desinvestigative evidenziando anche ulteriori episodi di violenza che la ventenne avrebbe subito nel corso del tempo. Salivano sulla bilancia insieme ai rifiuti aggiungevano acqua per far aumentare il peso e guadagnare di più. Con questo particolare scamotage avveniva la truffa a danno dell'ospedale Papardo di Messina a scoprire al giro gli uomini della guardia di finanza 5 gli indagati. Una truffa ai danni dell'ospedale Papardo è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Messina il settore è quello della raccolta trasporto smaltimento dei rifiuti speciali ospedaliari a rischio infettivo generati dalle aziende sanitarie e dai presidi ospedaliari ricadenti nel bacino della Sicilia orientale. Nel dettaglio gli specialisti in materia di tutela della spesa pubblica del nucleo di polizia economico-finanziare di Messina hanno analizzato i risultati della gara di bacino indetta dall'aspe di Catania e dalla centrale unica di committenza della regione Sicilia. Attraverso accertamenti tecnici sulla documentazione amministrativa che accompagna rifiuti dall'ospedale allo smaltimento è stato scoperto che sarebbero state adottate tecniche per falsare il peso dei rifiuti per ottenere così più rimborsi dall'ospedale. Le ipotesi di accusa che dovranno trovare conferma nei successivi gravi di giudizio sono al vaglio dell'autorità giudiziaria. Secondo le indagini la società giudicataria e il personale tramite l'utilizzo di bilancio non a norma e attraverso pesature false avrebbero arbitrariamente falsato il peso dei rifiuti da smaltire così da aumentarlo e avere un guadagno maggiore. L'attività investigativa eseguita sotto la direzione della Procura della Repubblica di Messina ha permesso di scoprire come in alcuni casi i contenitori dei rifiuti venissero sovraccaricati di acqua aggiuntiva. In altri episodi lo stesso personale preposto alla pesatura saliva sulla bilancia per aumentare il peso dei rifiuti da smaltire così da ottenere un maggiore rimborso da parte della struttura ospedaliera. In tutto 5 gli indagati a vario titolo è in concorso tra loro tra i quali il legale rappresentante della società giudicataria del servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri nei confronti della quale il giudice delle indagini preliminari del Tribunale Peloritano salvo diverse valutazioni giudiziarie nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il generale principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato ha emesso un decreto di sequestro preventivo di liquidità finanziaria di oltre 10.000 euro. Indagati i quattro dipendenti della società per l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di frode nelle pubbliche forniture. La prima ipotesi di truffa è consistita nell'avvenuta alterazione delle pesate dei rifiuti da smaltire riempendo i contenitori con acqua esercitando pressione con un piede sulla bilancia. La seconda ipotesi delittuosa è consistita nell'aver trasmesso all'azienda ospedaliera un falso certificato di avvenuto smaltimento dei rifiuti in quanto avvenuto ad opera di altre società. Un percorso multimediale attraverso sei sale guidati alla voce narrante di Leo Gullotta per immergersi nella vita nelle opere e nell'immaginario del nobel agrigentino. La regione siciliana restituisce al pubblico la casa museo Luigi Pirandello incontrata a caos ad agrigento rigolificata e con un nuovo allestimento espositivo. La riqualificazione della casa natale che è diventata museo di Luigi Pirandello è soltanto la prima tappa di un lungo percorso che coinvolge una ventina di case museo in Sicilia appartenute a siciliani illustri o di nascita o di adozione. Le condizioni in cui si trovava erano davvero inaccettabili era proibito l'ingresso ai disabili non c'era alcuna attività che potesse stimolare la curiosità del visitatore nulla che appartenesse alla elettronica abbiamo voluto in pochissimi mesi ristrutturare riqualificare la casa museo c'è adesso un ascensore che consente l'accesso ai disabili i bagni i servizi igienici sono aperti a tutti e soprattutto abbiamo introdotto elementi innovativi per dare un'anima a questa casa museo perché ognuno possa nel contatto fisico con la struttura possa cogliere il meglio la sensazione l'emozione di uno dei più grandi siciliani di tutti i tempi è soltanto l'inizio dicevo di un percorso abbiamo destinato 20 milioni di euro alla riqualificazione delle aree museali dell'isola appartenenti alla regione e per fortuna il primo passo il più importante è stato già compiuto già da questi primi scorci di visita si vede come l'offerta di questo luogo richiama le parole di Luigi Pirandello richiama l'opera di Luigi Pirandello grazie all'importante lavoro di consulenza scientifica e il fatto che l'inaugurazione avvenga oggi si è aspettato un po' ma era necessario per adeguare questo luogo è una data doppiamente simbolica perché oggi ricorre l'anniversario della morte di Luigi Pirandello ma ricorre anche l'anniversario di quel 10 dicembre del 1934 nel quale Luigi Pirandello ritirò il Nobel per la letteratura ecco è una doppia festa una doppia celebrazione che noi vogliamo onorare riaprendo questo luogo alla fruibilità e facendolo nel modo migliore con una visita ricca di suggestione che come diceva prima il presidente mantenga fede alla scientificità della ricostruzione del pensiero pirandelliano ma con un'immagine nuova anche aperta ai tanti ragazzi che vogliamo e auspichiamo siano veramente numerosi in questo luogo a partire dalle iniziative culturali che saranno organizzate da qui a fine anno e con i primi giorni del 2022 ed è tutto grazie per essere stati con noi vi auguro ancora una buona domenica a tutti i primi giorni